Benvenuti ovviamente questo è essenzialmente l'ultimo degli incontri che fino ad oggi avevamo messo in programma e come sapete sono dedicati agli approfondimenti ad approfondire diciamo i vari aspetti connessi con l'avviso dati che è stato pubblicato a fine febbraio. Oggi diciamo che il menu prevede di trattare la terza delle piattaforme coinvolte nella realizzazione delle progettualità che è Smart Region quindi avremo dopo la mia introduzione una presentazione appunto della piattaforma condotta da Fabio Pazzaglia che è il referente del nostro team che segue appunto la la piattaforma lo sviluppo e l'evoluzione della della piattaforma stessa poi abbiamo diciamo una testimonianza di un utilizzatore comune di Firenze diciamo utilizzatore ma anche per certi versi co designer della della piattaforma quindi può essere interessante per i comuni anche per avere un punto di partenza un paradigma diciamo di riferimento di come la piattaforma ad oggi è stata utilizzata da un ente locale e poi presenteremo diciamo ovviamente un deliniamo come dire l'uso della piattaforma sulle possibili eh proposte che gli enti potrebbero presentare per aderire all'avviso quindi le progettualità che possono essere eh implementate diciamo degli spunti sulle progettualità da implementare eh nel caso inquilente intenda utilizzare questa piattaforma per nell'ambito della sua proposta progettuale e poi abbiamo delle degli interventi molto significativi da parte di Anci Toscana, UPI Toscana e CISPEL Toscana eh che ovviamente ci eh ci sono di aiuto di supporto eh e di eh come dire svolgono un ruolo a mio avviso molto prezioso di intermediazione nei confronti del territorio eh per veicolare diciamo e eh assisterci nella in quella che è come dire la conduzione e il supporto che possiamo dare agli enti eh nell'ambito appunto della delle progettualità che possono proporre. Ehm come detto anche in occasione degli altri webinar questa è un'occasione sì per fare domande per avere richieste di chiarimento sulla piattaforma specifica che è oggetto oggi di presentazione però eh tenete conto che se nel frattempo anche sui webinar precedenti fossero emerse delle necessità di chiarimento eh questo è il luogo più che adatto diciamo a manifestarle, a presentarle e ovviamente poi oltre alla possibilità come sappiamo di eh scriverci ad una delle 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 mail e poi presenteremo anche in una delle slide di oggi e appunto per avere tutte le chiarimenti del caso. Allora chiederei a Fabio che sta si sta occupando delle slide in questo momento di passare ecco alla prima. Allora le prime slide come sapete sono un po' riepilogative dei delle puntate precedenti quindi abbiamo detto che l'avviso eh ormai diciamo che ha partecipato anche agli altri webinar sa bene di cosa stiamo parlando quindi l'avviso eh si incentra sulla proposta di una progettualità che abbia come eh al centro se vogliamo la valorizzazione del dato eh questa mh progettualità può fare uso di eh piattaforme messe a servizio eh da regione toscana eh ad uso ovviamente gratuito e eh queste piattaforme sono tre essenzialmente la piattaforma 3D data che è quella fotogrammetrica poi che è stata oggetto del primo webinar di approfondimento che abbiamo che abbiamo fatto lo scorso quindici marzo eh la terza che vedete a destra della slide che è dati toscana punto it cioè il portale regionale per la pubblicazione degli open data integrato con il sistema geo network dedicato alla metadatazione dei dati territoriali che sono stati oggetto del webinar del diciannove marzo quindi di martedì scorso oggi invece parliamo di quella della piattaforma presentata al centro che è smart region che essenzialmente come vi spiegherà poi il collega eh è una sorta di ecosistema di componenti utili alla gestione di applicazioni IoT e al trattamento all'elaborazione di big data per la produzione diciamo essenzialmente di analytics ehm la progettualità eh fa uso di almeno deve fare uso di almeno una di queste tre piattaforme come sappiamo e queste sono le eh le tipologie di attività che possono rientrare nell'ambito della proposta progettuale eh sono colorate proprio sul diciamo riprendendo i colori del della slide precedente proprio perché come vedete le prime due la e la B si incentrano sull'utilizzo della piattaforma fotogrammetrica eh mentre quelle quattro al centro la C la D la E la F sono eh quelle che saranno oggetto di espiegazione di oggi diciamo quelle che si appoggiano sull'utilizzo presuppongono l'utilizzo della piattaforma smart region eh lo scorso martedì invece abbiamo parlato della H e della G che sono le due piattaforme scusate le due tipologie di attività che invece eh come dire si incentrano esclusivamente sull'utilizzo della della piattaforma open data ehm tra queste attività come vedete ci sono delle proprie deuticità rappresentate da queste linee gialle quindi essenzialmente alcune attività non possono essere fatte non possono essere previste nell'ambito della proposta progettuale se non se non sono previste attività ad esse propedeutiche questo comunque ben spiegato anche all'interno del dell'avviso eh queste proprie deuticità però non so non significano che appunto non possano essere combinate al di là delle proprie deuticità esistenti queste attività tra loro quindi eh come dire una proposta progettuale può anche prevedere l'utilizzo di più di una piattaforma e eh l'implementazione di più di eh una tipologia di attività eh anche se eh non necessariamente esiste una propedeuticità tra di esse eh passiamo quindi all'ultima slide di questa parte introduttiva nella quale vogliamo al solito ricordarvi che il progetto ha una diciamo eh essenzialmente pochi vincoli dal punto di vista dei contenuti che eh deve avere eh essenzialmente vi sarà eh una almeno una tipologia di attività tra quelle elencate nella slide precedente quindi almeno una diciamo dalla alla H vi sarà almeno una piattaforma coinvolta e poi per il resto essenzialmente le scelte sono lasciate a lente quindi che tipo di dati acquisire ed elaborare o anche generare no? Perché eh di fatto questo progetto ha eh o dà la possibilità anche non necessariamente di trattare dati già esistenti ma anche di generarli di nuovi appunto pensiamo ad esempio all'acquisizione di un drone eh per la per la diciamo l'acquisizione e l'elaborazione di immagini piuttosto che all'installazione di sensoristi IoT quelli diciamo sono dispositivi che di fatto generano nuovi dati non ancora non ad oggi presenti oppure appunto il progetto può anche avere ad oggetto dati che sono già presenti che si ha eh come dire lo scopo di eh acquisire lavorare e magari eh integrare con altri e ripresentare poi sotto forma di servizi di consultazione di analisi eccetera eh eh a discrezione dell'ente sono anche appunto le finalità da perseguire con questo progetto i servizi le tipologie di servizi implementati quindi anche se vogliamo la la tipologia di target interno o esterno che si prevede di raggiungere il dominio tematico di riferimento quindi visto dall'avviso una limite eh una restrizione a particolari eh ambiti tematici da trattare eh l'ente che della dell'utilità e della della dell'opportunità che ha nell'ambito anche delle proprie funzioni e del territorio diciamo che che governa e eh in ultimo anche eh la possibilità per l'ente di coinvolgere eh come sappiamo altri soggetti altre organizzazioni nella definizione del progetto ovviamente poi ogni ogni soggetto coinvolto potrà avere un proprio ruolo eh orientato allo sviluppo di particolari fasi oppure magari alla conduzione di più fasi eh in ausilio e a completamento della proposta progettuale fatta dall'ente beneficiario eh che cosa deve produrre diciamo questa progettualità che come sappiamo dal momento della sua approvazione ha un anno di tempo per essere realizzata deve produrre in definitiva una relazione tecnico-organizzativa che deve essere redatta secondo una scheda allegata all'avviso quindi sostanzialmente do una documentazione dell'attività svolta e dei prodotti realizzati e eh un deve produrre poi un output costituito da almeno un numero minimo di cinque dataset in open data quindi il progetto nel suo insieme questo è un punto importante da chiarire che eh diciamo su cui torno ogni volta per diciamo anche per per essere estremamente chiari insomma è il progetto nel suo insieme indipendentemente dalla quantità di dati trattati indipendentemente dalle piattaforme utilizzate indipendentemente dalle tipologie di attività condotte che eh deve eh dare come output un numero minimo di cinque dataset questi cinque dataset minimi sono da esporre nel sul portale dati toscana.it qualora ovviamente si stia parlando di dati eh geografici di dati territoriali eh va eh diciamo la pubblicazione in open data deve essere fatta nel rispetto della normativa e quindi con una metadatazione opportuna a tal fine appunto esiste la piattaforma geonetwork che consente di eh metadatare eh secondo la norma i dati quando sono quando stiamo parlando di dati territoriali eh questi cinque dataset in open data non hanno requisiti qualitativi qualitativi minimi salvo che il lente non includa all'interno del proprio progetto le attività eh G o H bene che sono state oggetto di presentazione nel webinar del diciannove marzo eh che di per sé appunto sono attività che attengono all'ambito eh della della se vogliamo della data quality più elevata eh quindi si parla di eh high value data si parla di dati che rispettano un livello minimo eh di qualità eh di tipo tre o quattro e quindi diciamo nel caso in cui il progetto includa al suo interno eh almeno una di queste due attività anche il livello qualitativo dei dataset da mettere in open data diciamo si si innalza di di conseguenza e per definizione. A questo punto direi di passare la parola al collega Fabio Pazzaglia che ringrazio anticipatamente e ci aggiorniamo poi per le domande che potete eh scrivere riportare liberamente in chat oppure formulare magari in coda alle varie presentazioni anche diciamo più apertamente in prima persona insomma saremo lieti di rispondervi. Prego Fabio. Grazie Luca. Allora io ora vi parlerò in questa prima parte vi farò un'introduzione a quella che è Smart Region come diceva prima Luca una delle tre piattaforme offerte dalla regione toscana su cui incentrare la mh progettualità diciamo una vostra progettualità. Partiamo subito col definire che cosa è Smart Region che a livello macro può essere definito come un ambiente una piattaforma di big data volta alla raccolta all'elaborazione e la alla visualizzazione dei dati. La piattaforma si rivolge a tutti quei soggetti del territorio che intendono crescere intendono potenziare migliorare muovere i primi passi rispetto alla valorizzazione del proprio patrimonio informatico. Quali sono le caratteristiche che mi preme subito eh rimarcare di Smart Region? Innanzitutto si tratta di una piattaforma innovativa cioè presenta delle tecnologie che sono in linea con quello che è lo stato dell'arte. Poi secondo eh seconda caratteristica si tratta di una piattaforma completamente cloud quindi da parte degli utilizzatori degli aderenti e piccolo inciso si può aderire alla piattaforma anche al di fuori di questo avviso dati chiaramente c'è la totale quindi assenza di investimenti infrastrutturali sia hardware che software da parte degli aderenti. Una terza caratteristica importante è la sua modularità cioè all'interno di Smart Region trovo più strumenti a disposizione non è necessario usarli tutti ma si utilizzeranno quelli che soddisfano al meglio le proprie esigenze. Essendo una piattaforma modulare Abra sarà costantemente aggiornata e prevederà anche eh l'introduzione di interiori funzioni nel futuro. E infine è una piattaforma sicura nel senso che è una piattaforma che nasce da una pubblica amministrazione ed è nativamente pensata per essere rivolta per essere utilizzata da altre pubbliche amministrazioni. Facciamo però un piccolo passo indietro vediamo qual è perché eh dove dove sta l'importanza della valorizzazione dei dati ovvero quello che è l'utilizzo dei dati che rappresenta oggi uno veramente dei fattori chiave per l'evoluzione e lo sviluppo delle città ma anche dei territori moderni. Questo non perché raccogliere i dati sia utile fine a se stesso ma perché grazie ai dati noi possiamo ottenere un possiamo estrarre informazioni informazioni che vanno a crescere innanzitutto il nostro patrimonio di conoscenza e vanno anche a migliorare a supportare quelle che sono le decisioni che quotidianamente vengono prese le cosiddette data driven decision. Ora gli enti quando si parla di dati hanno un ruolo centrale anche perché sono soggetti a veramente una vastità di dati che possono essere che provengono dall'esterno quindi ci sono tantissime fonti dati e vorrei anche rimarcare il fatto che probabilmente è difficile soprattutto se pensiamo a enti territoriali a partire dai comuni trovare delle aziende private che hanno la necessità di trattare con dati così variegati ed eterogenei tra di loro perché ad esempio un ente locale può andare a trattare i dati che vanno dal sociale all'ambiente ai trasporti alla mobilità quindi quello degli enti è un ruolo centrale un ruolo che quindi li vede acquisire molte fonti dati dall'esterno avere a disposizione delle moli dati che sono frutto dell'elaborazione quindi delle sue attività core se vogliamo del day by day e poi hanno un ruolo anche di produttori di dati verso l'esterno. Tre diciamo fasi che possiamo riassumere per prendere una terminologia un pochino più tecnica e magari usata più di frequente di ingestion di processing e di production che sono un po' le tre fasi con cui possiamo schematizzare questo processo. Dove collochiamo Smart Region? Chiaramente Smart Region non è una piattaforma che si vuole sostituire a quelli che sono applicativi magari già presenti degli enti. Smart Region si pone come un layer diciamo volto a l'unificazione quindi a rendere più uniforme la gestione dei dati perché può raccogliere quelli che sono i dati provenienti da diversi applicativi, metterli insieme, uniformarli, correrarli e quindi realizzare anche una sorta di interoperabilità tra i dati stessi perché oggi comunque frutto della digitalizzazione un processo e comunque va avanti da anni molto spesso molti ambienti sono organizzati a silos quindi abbiamo degli applicativi verticali quando va bene che gestiscono determinati ambiti oppure anche specifici per singole funzioni. Quindi Smart Region vuole porsi a valle di questi applicativi e raccogliere i dati da tutte le fonti dati chiaramente i dati più di interesse, i dati che hanno senso anche essere quando sono correlati tra di loro. Nel concreto che cosa offre quindi Smart Region? Innanzitutto offre degli strumenti di Data Lake e Data Warehouse, la differenza tra Data Lake e Data Warehouse sta che un Data Lake è pensato per raccogliere tutte le tipologie di dati, dati per lo più non strutturati, molto simile a quello che accade con i Cloud Drive che utilizziamo quotidianamente anche solo per le foto, mentre un Data Warehouse ha le funzionalità per raccogliere dati che sono strutturati, quindi dati organizzati non so in database, in tabelle. Smart Region offre strumenti per entrambe queste casistiche, poi offre risorse per acquisire chiaramente i dati nella piattaforma, strumenti avanzati di elaborazione e ovviamente strumenti per la visualizzazione perché anche la fase di fruizione e di sintesi di questi dati è importante. E infine diciamo un concetto che è molto spinto anche a livello di piano triennale per la pubblica amministrazione da diversi anni, soluzione offre delle soluzioni volte all'interoperabilità dei dati chiaramente. I benefici, l'abbiamo già detto, c'è un beneficio a livello di per lente di supporto decisionale, ci sono dei benefici, un migliore governo del territorio, questo scaturisce dall'avere magari a disposizione un monitoraggio più capillare e costante di quello che succede nel territorio e una gestione delle risorse che può essere efficientata grazie all'utilizzo dei dati. Dal lato del cittadino questo si può tradurre invece in servizi migliori, una migliore, anche una maggiore disponibilità di informazione e ovviamente anche una maggior trasparenza non solo per ottemperare agli obblighi normativi ma anche proprio per testimoniare quella che è la attività di un qualsiasi soggetto pubblico. Entriamo ora, dicevamo Smart Region è una piattaforma modulare quindi analizziamo quelli che sono i componenti di Smart Region, i componenti ad oggi perché come dicevo prima Smart Region evolve quindi non è detto che i componenti che sono presenti oggi domani potranno essere di più. Ad oggi abbiamo quindi al 2024 tre componenti, una di Big Data, una di IoT, di Internet of Things e una di rivolta all'analytics. La componente di Big Data è forse quella predominante, forse la principale ed è il modulo di Smart Region che permette di raccogliere quindi di acquisire i dati, di organizzarli al suo interno e anche di effettuare tutte le elaborazioni specie quelle più complicate. Poi abbiamo il modulo che abbiamo definito di IoT, di Internet of Things. Questo è un modulo se vogliamo un verticale che permette di gestire l'intero ciclo dall'acquisizione, l'organizzazione e anche la visualizzazione di tutti quei dati che provengono da sensoristica distribuita nel territorio. Sempre di più le città anche così come nell'ambito della domotica fanno uso di sensori per la rilevazione di determinate misure telemetrie da parte nel territorio. Quindi con questo strumento è possibile raccogliere, organizzarle e visualizzarle in tempo reale. E infine un modulo di analisi, un modulo che permette di sempre cloud, sempre integrato all'interno della piattaforma di andare a effettuare delle interrogazioni sui dati, ovviamente dati strutturati che si trovano sulla piattaforma di Big Data, effettuare quindi delle query e andare a visualizzare questi dati, magari sintetizzandoli sotto forma di KPIs, visualizzandoli come grafici, come bar chart, line chart, visualizzarli su mappa e quant'altro. Ogni, diciamo, visualizzazione può essere inserita in un gruppo di altre realizzando delle dashboard tematiche, dashboard che possono essere anche condivise, così come possono essere i singoli grafici embeddati, cioè integrati anche in portali esterni, quindi ad esempio nel portale istituzionale del soggetto pubblico. Ultimo, diciamo, non è un vero e proprio modulo, ma mi preme, visto i tempi che corrono, sottolineare che attraverso la piattaforma di Big Data è possibile effettuare delle elaborazioni, diciamo, di intelligenza artificiale, più nello specifico di machine learning. Ora non pensiamo ai modelli quali GPT o che comunque generano linguaggio, ma quelle che sono proprio le funzioni di applicazioni di machine learning ai dati, ai fini di forecasting, quindi di previsione, di modellazione di eventi complessi, quelli che non possono essere modellati in forma diretta, che quindi il machine learning ci può venire molto in aiuto, per effettuare valutazioni di rischio, computer vision e tante altre applicazioni. Diciamo, all'interno di Smart Region, della componente di Big Data, c'è quell'ambiente di data science che permette di abilitare tutte queste funzioni. Chiaramente è un caso avanzato, ma può essere un'ottima occasione anche per sperimentare quello che comunque inevitabilmente sarà il futuro di qui a qualche anno. Quindi, ricapitolando, ad oggi sono presenti tre moduli in Smart Region, uno di Big Data per l'acquisizione, l'elaborazione e le attività di machine learning artificial intelligence. Un modulo di IoT per la visualizzazione in tempo reale e il monitoraggio degli asset di sensoristica distribuita nel territorio. E' un modulo di analytics per effettuare integrazione e interrogazioni dei dati e realizzare tutte quelle che sono le attività base tipiche della business intelligence. Ora, ovviamente, quelle che sono le funzionalità offerte da questa piattaforma, di fatto vogliono offrire che cosa? Un ambiente a tutto il territorio della regione toscana, vogliono offrire degli strumenti per evolvere o muovere i primi passi verso un modello di Smart City. E se guardiamo le tecnologie abilitanti della Smart City, non sono altro che quelle incluse in Smart Region, e anche il nome chiaramente non è a caso. Perché? Perché abbiamo una componente di big data, di IoT, cloud computing, intelligenza artificiale, nonché tante altre che potranno venire, quale realtà aumentata, eccetera. E a testimonianza di ciò, tra l'altro, il progetto Smart Region, già come accennava anche Luca inizialmente, già supporta il Comune di Firenze in quello che da anni è un processo di evoluzione in una città sempre più tecnologica e smart. Ma per parlarvi di questo, volevo invitare Emanuele Geri dei Sistemi Informativi del Comune di Firenze. Ciao Emanuele, che magari ci fa vedere più da vicino l'esperienza. Prego Emanuele. Ciao Fabio, ciao a tutti, buongiorno a tutti, un saluto in particolare a quelli che mi conoscono. Spero che mi sentiate bene perché io a casa mia sono in Smart, sono afflitto dal digital divide. Allora, condivido il mio schermo e vengo a portare un po' i nostri i nostri casi d'uso. Alcuni dei nostri casi d'uso sono realizzati grazie alla piattaforma Smart Region. In pratica, l'esperienza del Comune di Firenze con Smart Region. Le piattaforme di cui hai discusso, ecco, sono veri e propri pilastri sui quali il Comune di Firenze ha realizzato e sta realizzando molte molte attività e credo che come sono dei pilastri per il Comune di Firenze non possono fare altro che esserlo anche per gli altri enti, per gli altri comuni che partecipano a questa sessione, perché trovarsi questi strumenti pronti, anche expertise, è senz'altro utile per tutti. Allora, noi siamo partiti da questo punto qui. Ecco, avevamo nella nostra città tanti asset, qui ne ho messi alcuni che provengono diciamo sostanzialmente dal mondo IoT, tanti asset da monitorare e a me piace vedere questi asset da monitorare come generatori, come fonti di dati da monitorare. Molti di questi li avranno anche i vostri comuni, ad esempio le videocamere per la sorveglianza, le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e i punti di accesso wifi e ovviamente la semaforica e magari altri di questi di questi oggetti e appunto questi dati che generano sono sostanzialmente big data, big data che devono essere immagazzinati da qualche parte e elaborati per avere quel supporto alle decisioni data driven che ci diceva anche Fabio. Questo può essere un po' per chi ama le graficizzazioni dei flussi quello che succede nella fattispecie, si va dalla sorgente al diciamo al report, al prodotto finito da utilizzare per prendere le proprie decisioni. io preferisco cose a volte anche un po' più semplici, ecco questa secondo me è una cosa un po' più semplice da capire, peccato che non funzioni l'ultima dashboard che era una gif animata, si va ad esempio dall'immagine acquisita con la telecamera o l'immagine già elaborata dalla telecamera, ecco sta funzionando, perché sapete bene che l'intelligenza artificiale applicata magari alle videocamere di sorveglianza può diciamo riconoscere alcuni comportamenti, alcune cose, flussi di traffico e quant'altro, a immagazzinare dati in quello che sostanzialmente nel nostro caso Smart Region è anche un vero e proprio data lake, a lavorare su questo sistema con un po' di genialità e tirare, fare qualche elaborazione interessante e avere ad esempio un prodotto finito che può supportare voi o i vostri interlocutori, i vostri decisori nelle decisioni da apprendere. Vediamo alcuni casi d'uso che abbiamo affrontato al Comune di Firenze con la piattaforma Smart Region. Noi abbiamo utilizzato prevalentemente la componente IoT. Questo ad esempio è la dashboard di monitoraggio parcheggi, ci sono i parcheggi di struttura di Firenze, i parcheggi generano in tempo reale dei dati che vengono immagazzinati e tramite questa dashboard visualizzati sia in tempo realtime, ma anche con elaborazioni fatte sui dati immagazzinati per avere un'idea dell'andamento che c'è stato nei giorni passati e vedere magari quanto cambia nel giorno stesso, ad esempio in relazione a qualche evento importante che sono in tutte le città, come potete ben immaginare a Firenze ce ne sono molti di più. Un altro asset può essere ad esempio da monitorare con questa piattaforma le colonnine di ricarica, colonnine di ricarica che ormai sono un po' in tutti i comuni. Noi magari a Firenze ne abbiamo un po' di più, ora questa fra l'altro è una dashboard anche non particolarmente recente ma dove sono, quali hanno dei mezzi attaccati a ricaricare o meno e tutto può dare un'informazione sicuramente importante e anche eventualmente da rendere disponibile, noi comuni di ricarica lo facciamo, anche come open data. Un altro esempio, anche questo credo che calzi con molte delle vostre esigenze è la smart irrigation, quindi sensori installati in aree verdi che regolano l'irrigazione in base magari all'umidità del terreno, alle condizioni climatiche e a quant'altro. permettendo quindi un'ottimizzazione delle risorse idriche, quindi anche un risparmio e di evitare che le nostre aree verdi, le vostre aree verdi ingialliscano. Questo appunto è un altro esempio, visto che ormai come oggetti IoT ci sono un sacco di aziende che propongono tecnologie o quant'altro, uno magari attraverso questa progettualità potrebbe, lo stiamo pensando di farlo anche noi, acquisire altri oggetti IoT e poi appunto realizzare dall'installazione dell'oggetto alla fine al prodotto finito che permette di monitorarlo. Questo ad esempio è il caso dei punti di accesso Wi-Fi su Firenze. I punti di accesso Wi-Fi, oltre ad erogare connettività, possono servire anche per stimare i flussi di persone in talune zone, perché quando passiamo vicino a un hotspot Wi-Fi veniamo agganciati e non troviamo parte di persona che passa di lì. Ovviamente tutti ormai hanno uno smartphone, quindi può essere una misura assolutamente attendibile. Noi l'abbiamo usata, tra l'altro ci ha lavorato un collega che è qui in call, di cui non faccio nomi, ci abbiamo lavorato durante anche il periodo della pandemia e ci siamo accorti che era un meccanismo che sostanzialmente funzionava. L'evoluzione di questo è stata, ci stiamo lavorando un po' adesso, su sensori people counting, quindi per il conteggio di persone in zone della città. Anche le telecamere stesse possono essere identificate come sensori di people counting. E il people counting è molto importante, credo in tutte le città, per vedere se ci sono creati magari assembramenti di un qualche tipo. Oppure nel caso, noi a Firenze l'abbiamo utilizzato ovviamente molto anche per motivi turistici, per suggerire a persone che si trovavano in zone affollate tramite una app di spostarsi, segnalandogli che la zona era affollata o il luogo dove volevano recarsi era affollato e spostarsi in altri luoghi. Ma pensate anche semplicemente al fatto che sapere quante persone passano, sono, in un certo posto può servire anche, ad esempio, per vendere le insegne pubblicitarie. Quindi un'insegna pubblicitaria in una zona dove c'è più passaggio di persone è sicuramente un indice, un KPI da conoscere per appunto far pagare quel tipo di pubblicità. Questo è il caso di dettaglio. Ora, ci siamo anche accorti, quindi Smart Region è anche un punto di convergenza e interoperabilità per dati provenienti da piattaforme e fornitori differenti. Il people counting è uno di casi, ma ce ne sono molti altri, perché magari ogni fornitore che appunto fornisce la sua soluzione per il people counting ti fornisce dei sensori, delle metriche non sempre convergenti fra di loro e magari un cruscotto di monitoraggio suo, ok? Tutti possiamo avere più fornitori che appunto ci danno, ci erogano questo tipo di servizio e quindi magari avere un punto d'approdo dove possiamo fare sintesi dei dati e renderli appunto, poterli guardare assieme, renderli interoperabili per materiale che arriva da canali diversi è senz'altro utile. Questo è un altro esempio, ognuna di questi asset, la Smart Mobility, quindi abbiamo i monopattini elettrici, gli scooter elettrici, le biciclette elettriche e muscolari, questi erano singoli cruscotti forniti appunto dai singoli fornitori. Noi abbiamo ingestionato tutti i dati su Smart Regio e li abbiamo trattati qui tutti insieme per dare un punto straonico della situazione, focalizzandoci fra l'altro su un aspetto che i fornitori non davano e è, ad esempio, l'autonomia di ricarica della batteria di questi oggetti. Quindi a volte il fornitore, chiaro, se glielo chiedi ti dovrebbe dare tutto, però spesso, e spesso magari potrebbero farlo con comuni più piccoli, tendono a tenersi i dati per sé e a fornire soluzioni di controllo e monitoraggio non necessariamente che matchano con quello che poi potrebbe essere il bisogno effettivo dell'ente. Ecco, se invece abbiamo i dati e i dati il più completi possibili, analizzandoli e potendo utilizzare piattaforme come Smart Region, possiamo arrivare ad avere appunto un punto di vista più completo e più conforme alle necessità dell'ente. Ovviamente alcune delle dashboard che ho fatto vedere sono presenti nella Smart City Control Room al Comune di Firenze, che è stata lavorata a dicembre. Pensiamo di realizzarne altre, sia con Smart Region, sia anche con altri strumenti, perché poi alla fine ci siamo resi conto, perlomeno in questa fase, che anche nella Smart City Control Room, o perlomeno in una Smart City grande come quella di Firenze, dove ci sono molti soggetti, come poi racconterà anche Sara Naldoni, provenienti da tutti gli attori della Firenze, bisogna anche portare i propri sistemi, ma senz'altro anche quelli prodotti con questa piattaforma fanno parte degli assi da monitorare dentro la Smart City Control Room. all'aumentare delle dashboard, delle fonti dati e dell'ingestion, la fase quindi di acquisizione da parte di Smart Region, poi è necessario avere poi anche degli strumenti di monitoraggio, delle attività, se i parcheggi sono gestionati ogni cinque minuti, il people counting ogni tre, eccetera, eccetera, occorre anche avere, noi abbiamo sviluppato poi anche questa dashboard, un quadro, diciamo, di cosa succede, di cosa succede appunto con tutti questi dati. Ad ogni modo, ecco, partire da una di quelle progettualità che io ho portato a titolo di esempio, credo possa essere auspicabile e facile per tutti. Quindi, buon lavoro a tutti con Smart Region e la parola ai colleghi di Regione Toscana. Grazie, grazie Emanuele davvero per questa testimonianza. Allora, ricondivido lo schermo. Ok, allora, veniamo ora a parlare un pochino più, entriamo più nel merito di Smart Region in relazione all'avviso dati FESR e vediamo un po' come cercare di dare anche qualche idea e qualche indicazione su come realizzare un progetto per l'avviso dati. Allora, qui vi ho richiamato in questa slide quelle che sono le tipologie di attività di cui già parlava Luca Cipriani all'inizio, diciamo, le trovate nell'articolo 4 dell'avviso al punto 6 si tratta di 8 attività almeno una chiaramente deve essere presente nel progetto che presenterete e queste attività riguardano tutte e tre le piattaforme che possono essere impiegate per la realizzazione di questa progettualità in particolare i punti A e B per 3D Data i punti H e G relativi alla piattaforma dati toscane vediamo che Smart Region su Smart Region sono, diciamo, attivabili quelle attività CDF in particolare Smart Region Ingestion Analytics, MLAI e Smart Region Integrazione. Vediamole leggermente, velocemente nel dettaglio che cos'è Smart Region Ingestion? Attività C al punto C consiste nella implementazione di uno o più flussi di acquisizione di Big Data anonimizzati da sorgenti IoT o di altra natura di fatto l'acquisizione, il processo, l'attività di acquisizione dei dati in piattaforma l'attività D invece quella denominata Smart Region Analytics consiste invece nella implementazione sulla base di quei dati che sono chiaramente stati in precedenza acquisiti di una o più dashboard analitiche quindi orientate a finalità che possono essere di monitoraggio supporto alle decisioni e altre l'attività E quella che abbiamo definito Smart Region Machine Learning AI consiste invece nell'implementazione sempre sulla base dei dati in precedenza acquisiti sulla piattaforma di cui al punto C all'attività C di una o più elaborazioni nella quale siano applicate chiaramente tecniche di machine learning sui dati infine l'attività F quella denominata Smart Region integrazione e messa regime sulla base sempre dei dati che sono stati oggetto di trattamento al punto all'attività C ma anche di quelli che sono stati risultati delle attività D o E consiste quindi questa attività nell'implementazione di integrazioni verso altri software che possono essere pubblici o privati questo è a scelta dell'ente e che possono essere sia la pubblicazione diretta di grafici di dashboard l'embedding proprio di visualizzazione oppure l'erogazione anche dei dati la pubblicazione via API queste sono un po' le quattro attività che possono essere realizzate all'interno di Smart Region chiaramente si capisce probabilmente già che ci sono come anche diceva Luca all'inizio delle propedeuticità e in questo caso qual è la propedeuticità principale? è l'attività C di fatto chiunque voglia presentare un progetto basato sulla piattaforma Smart Region l'attività C è praticamente mandatoria e poi a valle di questa diciamo possono essere realizzate tutte le altre vi ricordo inoltre che il riconoscimento economico che per ciascun progetto è massimo di 56.000 euro chiaramente si basa prima di tutto su quale attività verranno esercitate dal progetto quindi ad esempio qua è riportato proprio il contributo la somma riconosciuta forfettaria per ciascuna delle varie attività sottolineate sono quelle che riguardano Smart Region chiaramente in un progetto si può usare sia la piattaforma Smart Region che anche 3D Data che anche dati Toscana quindi almeno una ne è richiesta quindi veniamo dopo aver visto velocemente questa sottivisione in attività a un'idea di alcune progettualità perché posto che io potrei realizzare un progetto che sfrutti solo che sfrutti Smart Region e implementi solo l'attività C cioè quella di Ingestion chiaramente è più interessante muoversi su scenari che vanno a integrare più attività un esempio molto semplice può essere quello di dire acquisire flussi i dati sulla piattaforma Smart Region e interrogare questi dati realizzando una o più dashboard collegate questa è un progetto una progettualità che esercita le attività C e D e darebbe luogo ad un contributo superiore ai 37.000 euro se poi oltre a le dashboard magari realizzassi una qualche forma di integrazione quindi aggiungessi uno step e integrassi non lo so anche dei grafici potrei integrarlo nel mio portale web istituzionale ad esempio raggiungerei un contributo forfettario superiore ai 42.000 euro se invece realizzassi sia gli analytics che machine learning avrei un contributo di circa 46.000 euro quasi e infine quello che chiaramente a questo punto mi viene da consigliare perché non realizzarle tutte e quattro realizzando tutte e quattro le attività si riesce ad arrivare a un contributo per progetto forfettario intorno ai 50.000 euro questo un pochino per cercare di dare sostanza a quanto detto inizialmente ora in questa slide invece ho voluto un po' dare una sorta di workflow su come potrebbe avvenire la realizzazione di un progetto cioè quello che può essere un suggerimento non è tanto di concentrarsi prima sui dati ma partire da quella che è un'idea cioè definire innanzitutto per la realizzazione di un progetto quelli che sono gli ambiti quelli che sono gli obiettivi e quelle che sono le fonti dati che mi occorrono una volta partiti da un'idea quindi mi posso andare a chiedere ma questi dati ce li ho già chiaramente la risposta può essere sì e quindi possiamo procedere con l'acquisizione dei dati possono essere invece dati che non ce li ho non ce li ho direttamente ma li posso ottenere perché magari sono messi a disposizione da un qualche altro ente da un partner da un utility del territorio quindi o magari stare dentro già dei degli altri applicativi software gestionali in mio possesso quindi non ce li ho direttamente ma li posso comunque andare a ottenere il terzo caso invece questi dati io non ce li ho e per poterli acquisire magari ho bisogno di acquistare acquisire strumenti hardware e software ulteriori penso a tutto il mondo appunto in questo caso della sensoristica quindi a prescindere da che io abbia già i dati o che vi vada ad ottenere acquistando hardware ad hoc il punto successivo è quindi portare questi dati su smart region realizzare quindi il punto C l'attività C e a valle di questa realizzare l'attività di analytics il punto D machine learning il punto E e sviluppo integrazione il punto F queste tre sono sostanzialmente a scelta veniamo quindi anche a degli esempi premetto subito si tratta di esempi molto basilari degli esempi che alcuni ricalcano quanto già detto da Emanuele Geri prima nella esperienza del comune di Firenze che sono esempi che vogliono cercare trasversalmente di poter essere interessanti un po' per tutti i soggetti che partecipano a questo webinar quindi diciamo sono dell'indicazione ad esempio un prima idea di progetto che riguarda l'ambito green o comunque l'ambito ambientale potrebbe essere quello di andare a installare i sensori per l'appunto di smart irrigation su un giardino su un'area verde su più aree verdi sensori di smart irrigation che come detto servono per l'irrigazione automatica diciamo e adattiva del terreno di aree verdi con sensoristica connessi connessa in rete chiaramente quindi possono essere non lo so rilevatori di umidità del terreno rilevatori di temperatura e chiaramente gli irrigatori quindi gli attuatori e gli irrigatori automatici i dati raccolti da questi sensori che chiaramente devono essere connessi alla rete possono essere acquisiti in smart region e ecco che ho realizzato l'attività di cui ha il punto C cioè smart region ingestion c'è un terzo punto che vi richiamo ora che è quello della pubblicazione di dataset relativi cioè tra i vari requisiti per la presentazione di un progetto come diceva Luca Cipriani all'inizio c'è anche il requisito di pubblicare dei dataset in open data bene in questo caso quali dataset open data potrei pubblicare facilmente un esempio potrebbe essere un dataset dove io riporto la posizione di tutti i miei sensori smart diffusi nel terreno un dataset relativo ai consumi di acqua un dataset relativo all'umidità la temperatura eccetera quindi questo era un po' per farvi capire che comunque è facile anche da un esempio del genere ottenere quelli che sono poi i requisiti del della progettualità del progetto per l'avviso dati un altro caso un altro esempio che volevo proporre è quello del turismo questo può riguardare un caso d'uso che può riguardare veramente molti comuni medio piccoli della Toscana e ragionare in questo modo innanzitutto andare a acquisire tutti quelli che sono i dati da biglietterie di musei pinacoteche attrazioni del territorio sia OS pubbliche che private perché in talunità si è possibile avere anche alcuni dati relativi a strutture private magari anche biglietti di mezzi di trasporto dedicati che ci sono in alcuni comuni oppure anche quello che è l'occupazione dei parcheggi in struttura magari perché nei periodi di massimo afflusso poter misurare quanto è l'occupazione dei vari parcheggi in struttura messi a disposizione per i turisti e per tutti i visitatori unitamente a questo si potrebbe pensare anche di installare dei sensori di people counting quelli di cui ci parlava sempre il comune di Firenze prima che possono essere installati in qualche luogo piazza principale al fine di rilevare diciamo più che conteggiare le persone rilevare quello che è il grado di affollamento tutti questi dati sia dei sensoristica che dati ad esempio provenienti dalle biglietterie possono essere quindi portati elaborati in Smart Region possono essere create delle dashboard di monitoraggio sintetizzando ad esempio non lo so numero di visite per giorno realizzate quindi anche dei grafici molto semplici possono essere questi grafici integrati embeddati sul portale web e poi vabbè l'ultimo punto è quello della pubblicazione del dataset diciamo con un esempio del genere abbiamo attivato le attività C, D ed F ad esempio un altro caso invece è quello dell'efficienza energetica sempre basato su che cosa ad esempio potrei pensare di installare sensori per la rilevazione di parametri quali temperatura e altro negli edifici pubblici nelle scuole oppure se qualora questi dispositivi già ci fossero andare a collegarmi a quindi quella che è la sensoristica esistente potrei inoltre raccogliere quelli che sono i dati relativi ai consumi degli edifici portare tutto questo in smart region anche in questo caso realizzare innanzitutto delle dashboard come output diciamo e di monitoraggio ma in più potrei anche su questi dati fare qualcosa sperimentare qualcosa relativamente al machine learning cioè andare a fare un forecasting una previsione su quelli che potrebbero essere i consumi successivi per fare ciò potrei anche far uso di altre fonti dati fonti dati anche generiche che tra l'altro smart region molte fonti dati le metterà a disposizione nativamente tipo il dato meteo che potrebbe essere messo in correlazione proprio per lo sviluppo di una attività di machine learning o anche integrare con dati di apertura chiaramente dei locali dei luoghi di cui si va a misurare i consumi tutto questo diciamo in ottica di previsione di efficienza energetica ovviamente anche in questo caso è facile trovare dataset che poi possono essere pubblicati come open data infine un altro esempio questo un pochino più interno al funzionamento del lente potrebbe essere semplicemente anche quello di andare a raccogliere invece dati provenienti dai sistemi gestionali esistenti qui ho fatto l'esempio ora molto trasversale quelle che sono magari il numero di pratiche il loro stato se concluse in corso chi ha un'agenda di prenotazione andare a mettere anche i dati relativi alle prenotazioni di servizi da parte dei cittadini e tutto questo diciamo declinato per ogni tipologia di servizio al pubblico offerto portare tutti questi dati in smart region elaborarli si possono creare anche in questo caso delle dashboard di monitoraggio per quello che è appunto l'erogazione dei servizi lo stato di erogazione dei servizi al pubblico e anche in questo caso direi che si possono trovare facilmente dei dataset da pubblicare questo è un caso che magari esercita solo l'ingestion e gli analytics comunque penso sia possa essere rapportata veramente di molti comuni chiaramente si potrebbe continuare perché gli ambiti sono molti ora non andrò oltre nel fare esempi comunque ci possono essere anche esempi a piccola nota chiaramente una progettualità non deve essere dedicata necessariamente a un singolo ambito anzi può dedicarsi a più ambiti può portare diciamo delle progettualità che toccano più ambiti quali mobilità ambiente turismo servizi amministrazione utility e infrastrutture che sono altri esempi che vi lascio qui e magari li potrete recuperare successivamente perché comunque questo webinar sarà disponibile sul canale youtube di regione toscana come anche i precedenti quindi lo potrete recuperare e vorrei quasi concludere innanzitutto con dei suggerimenti però dei suggerimenti che come detto prima questo è un consiglio magari non fermiamoci di fronte al fatto che magari non vediamo inizialmente i dati diciamo io magari sono un ente molto piccolo non ho dati per poter fare progettualità di questo tipo secondo me no perché comunque questa è una piattaforma che vuole accompagnare vuole anche concedere agli enti la possibilità di muovere i primi passi verso questo verso questo ambito e quindi come dicevo prima partire meglio da un'idea un bisogno un tema perché poi i dati arriveranno si può prendere molta molto spunto guardandosi attorno anche facendo le ricerche molti ambiti e molti esempi di quelli che vi facevo vedere prima comunque sono esperienze già fatte da altri comuni in Italia o all'estero quindi guardarsi attorno può essere veramente fonte di molte idee e infine anche dare un'occhiata al portale open data regionale per avere idee anche su quelle che sono fonti dati trattati in open data chiaramente da altri soggetti pubblici e infine per avere supporto sulle varie progettualità che potete sui progetti che potete mandare in risposta all'avviso dati ci sono tutte quelle che sono le organizzazioni che lavorano e sono presenti nel territorio regionale molte alcune le conoscerete e volevo chiamare a partire dalla prima sono tutte organizzazioni che possono darvi supporto supporto di varia natura la prima di queste è ANCI e dovrebbe essere con noi Silvia Bertagnini di ANCI Toscana ciao Silvia ciao buongiorno a tutti grazie Fabio intanto sì volevo appunto ringraziarti perché avete inserito diciamo in questo slide già alcune tipologie di esempio di progetto che diciamo ci sembrano attuabili o comunque ispiratrici di progettualità ma ovviamente ce lo dovranno poi confermare i comuni a prescindere dalla dimensione del comune e quindi anche per i comuni medio piccoli avevamo fatto alcuni incontri preparatori a questo ciclo di webinar e come ANCI Toscana ma anche come UPI Toscana avevamo suggerito appunto di inserire delle tipologie di casi d'uso di scenari possibili anche per i comuni medi e ovviamente la scelta dell'ambito su cui sviluppare poi il proprio progetto va sicuramente ponderata tenendo in considerazione sia le azioni pregresse che ha già fatto l'ente sia diciamo la strategicità e il livello stesso di consenso che potrebbe avere il risultato della pubblicazione sul sito di questi diciamo delle dashboard quindi come diceva Fabio partire da un'idea da un bisogno un tema che si va poi a individuare attraverso anche il confronto tra i settori interni dell'amministrazione stessa quindi da scenari possibili o probabili in base ai dati che avete già disponibile o comunque si possono raccogliere integrando dati provenienti da diverse fonti come hanno ribadito appunto Luca e Fabio quindi altri livelli amministrativi multi utilities aziende municipalizzate ad esempio e quello che mi viene in mente come diciamo supporto che può fornire Anci Toscana diciamo che possiamo accompagnarvi e facilitare occasioni di confronto per magari approfondire analizzare e portare a sintesi idee che diciamo che secondo le linee progettuali che pensate possono essere più utili per il vostro comune o per gruppi di comuni possiamo cercare di favorire lo sviluppo di contatti con altri possibili partner progettuali quindi provenienti ad esempio dal mondo accademico dalle strutture di ricerca che ci sono sul territorio politecnologici o associazioni stesse associazioni culturali o di volontariato ovviamente non abbiamo ancora in mente un percorso ben definito perché non abbiamo mai lavorato neanche noi su questa diciamo coglienti su questa piattaforma e quindi diciamo che il nostro invito è anche quello di suggerirci eventualmente un percorso che possa facilitarvi nella costruzione di progettualità in risposta all'avviso tenendo conto che abbiamo il vantaggio di avere assieme a UPI con cui siamo in stretto contatto anche una interazione diciamo diretta e quasi giornaliera diciamo con i gestori della piattaforma quindi con i capi progetto regionali e quindi come per altre diciamo iniziative regionali ad esempio per la piattaforma per quanto riguarda la piattaforma 3D Data vi posso anticipare che stiamo già pensando di organizzare due ulteriori iniziative una online e una on-site entro entro aprile quindi magari ci verranno in mente nel corso dei prossimi giorni dei prossimi mesi delle delle attività che possiamo organizzare per facilitarvi nella nella risposta all'avviso volevo approfittare Fabio di un altro minutino vai meno di un minuto per invitarvi all'evento che stiamo organizzando nel pomeriggio del 28 marzo all'Innovation Center di Firenze è un appuntamento che vedrà l'apertura dei lavori con l'Anci Nazionale il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e assieme all'Assessorato all'Innovazione di Regione Toscana parleremo ancora di dati intelligenti di smart governance attraverso testimonianze approfondimenti pillole di innovazione anche start-up appunto e quindi vi invitiamo a partecipare poi vi mettiamo in link il link per la registrazione in chat grazie buona giornata a tutti bene grazie mille Silvia e sempre parlando di fare sinergia fare squadra abbiamo con noi anche Massimiliano D'Ascanio questa volta per l'Unione delle Provincie Toscane ciao Massimiliano ciao Fabio buongiorno buongiorno a tutti anzitutto ci tengo appunto a nome di tutte le province a ringraziare sentitamente alla regione per questa opportunità questo finanziamento tramite l'utilizzo di fondi europei appunto per lo sviluppo delle progettualità sui dati che sono state illustrate nel corso di questi quattro webinar che appunto terminano oggi e quindi anche ovviamente un sentito di ringraziamento soprattutto alla regione agli uffici regionali per l'importante impegno e la dedizione che hanno messo in campo appunto nel corso di questi di questi quattro seminari anzitutto quindi come UB Toscana riteniamo sicuramente che questo avviso pubblico tramite questi finanziamenti sui progettualità e su dati possono assicurare sicuramente una maggiore inclusività quindi a beneficio del sistema degli enti locali toscani ricordiamo infatti che l'avviso pubblico è rivolto a tutti tutti gli enti locali quindi tutte le tipologie del sistema toscano su questo importante tema della transizione digitale che come sappiamo bene abbiamo visto anche con i importanti finanziamenti tramite il PNRR risulterà essere un tema chiave anche del sistema vaese quindi questo permetterà sicuramente di sviluppare il sistema pubblico toscano e quindi potrà essere che un vantaggio della collettività questo quindi avviso pubblico permetterà anche di rendere più sostenibili i costi a beneficio degli enti locali quindi delle strutture toscane permettendo loro quindi anche di concentrarsi sull'applicazione poi dei dati stessi e quindi ovviamente a seconda dell'interesse che verrà maturato all'interno della struttura concentrarsi su un determinato settore su una determinata area che sono state appunto illustrate nel corso degli webinar alcune delle slide appunto che sono state da te illustrate Fabio poc'anzi quindi sono molto significative come come è possibile appunto uso di partenza come uso di caso insomma quindi condividiamo appunto da te quanto quanto illustrato e riteniamo appunto possa essere un primo utile punto di partenza niente come unisco appunto a quanto detto da Anci Toscana da Silvia Bertagnini quindi come UPI Toscana unione insieme ovviamente all'associazione anche dei comuni assicureremo tutto il nostro impegno per il per il supporto tecnico amministrativo a beneficio degli enti quindi province e comuni auspicando appunto un'ampia partecipazione degli enti a questa importante opportunità e ringraziamo nuovamente per per i quattro webinar che sono stati appunto illustrati e quindi gli impegni della regione grazie buon lavoro a tutti grazie massimiliano e ora parlando di sinergia diciamo non c'è solo la parte di sinergia comunque tra enti tra con pubblica amministrazione ma c'è anche la sinergia che come dicevamo anche in qualche slide precedente può venire fuori dal dialogo con le utility con le utility presenti nel territorio e su questo diciamo abbiamo l'intervento ora di Sara Naldoni per CISPEL Toscana ciao Sara sei muta buongiorno ecco adesso ci sono prego buongiorno buongiorno a tutti allora intanto mi unisco ovviamente ai ringraziamenti in primis a Luca Cipriani a Fabio Pazzaglia per questa interessante presentazione ma ovviamente anche a tutti i colleghi di regione Toscana che hanno operato per la realizzazione di questo avviso anche dei precedenti io rappresento in questo momento con servizi CISPEL Toscana sono appunto Sara Naldoni responsabile dei progetti su Smart and Sustainable City CISPEL Toscana che come immagino sappiate è l'associazione di categoria che unisce le aziende di servizio pubblico appunto che operano in Toscana perché possono essere interessanti può essere interessante la collaborazione con le aziende anche proprio per questo bando quindi la collaborazione con le utilities allora intanto parliamo di un sistema di circa 150 aziende partecipate che operano su tutto il terreno regionale che diciamo oltre a rappresentare circa il 3% del PIL della Toscana soprattutto hanno diciamo ovviamente per conto dei comuni in collaborazione con i comuni l'onere e l'onore di gestire importanti servizi di interesse pubblico parlo per esempio della gestione dell'acqua gestione dei rifiuti gestione dell'energia dell'illuminazione trasporti parcheggi erpa di risidenziale pubblica farmacie eccetera tutti questi diciamo servizi hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini su gli obiettivi dell'agenda 2030 ma diciamo hanno anche un'importante collegamento con il tema dell'innovazione digitale perché perché per gestire questi servizi le aziende hanno in mano diciamo una serie di leve di strumenti e di dati quali dati per esempio dati come dicevo adesso dati sulle utenze dati sui consumi dati sull'efficienza energetica dati che riguardano il tema della mobilità della sosta dei dati ambientali hanno anche importanti strumenti diciamo per gestirli quindi hanno delle centrali di controllo dedicate proprio a questi temi e quindi i dati poi vengono non solo recepiti ma anche aggregati lavorati e quindi ci sono anche diciamo dati di un secondo livello che possono essere messi a disposizione già lavorati che arrivano anche spesso quindi sentivo parlare prima Emanuele Emanuele del Comune di Firenze che arrivano anche spesso da oggetti intelligenti quindi da oggetti IoT da oggetti smart che sono disposti spesso in maniera capillare sui territori e che appunto quali oggetti per esempio le pensiline o le paline elettroniche del trasporto pubblico oppure le colonie di ricarica elettrica gli smart meters che misurano i consumi i dati sui flussi semaforici i dati sulle aperture dei cassonetti intelligenti i dati sulle aperture delle sbarre dei parcheggi di struttura insomma adesso appunto non mi dilungherò anche perché ho promesso di stare nei 5 minuti non mi dilungherò troppo sulle tipologie di dati possibili che possono essere messi a sistema però ecco le utilities ovviamente possono hanno a disposizione questi dati li hanno già sono utili per gestire il loro core business il loro proprio servizio ovviamente sono utili anche se messi al sistema ovviamente insieme alle pubbliche amministrazioni per gestire i servizi in maniera migliore in maniera trasversale e sistemica in parte qualcosa è già stata fatta dalle aziende partecipate appunto sempre con riferimento a quanto ha detto Emanuele leggeri prima la smart city control room di Firenze che ovviamente diciamo si basa sulla smart region platform è nutrita dai dati delle pubbliche amministrazioni ma anche dai dati delle aziende partecipate di Perimetro Fiorentino analoghi esperienze o sono diciamo in fase di costruzione con altri comuni a partire dal comune di Prato che cosa possiamo fare possiamo supportare come diciamo abbiamo in parte già fatto con alcuni comuni lo sviluppo di contatti con le aziende partecipate e lo sviluppo diciamo anche di occasione di iniziative di confronto con alcuni referenti delle aziende quindi delle utilities tra comuni e utilities in maniera tale che si possono creare delle sinergie che possono diciamo favorire lo sviluppo di progettualità sui dati proprio in risposta a questo bando concluderei spero di essere stata questa volta breve grazie grazie mille Sara tra l'altro ecco nonostante questo sia l'ultimo webinar chiaramente potremo successivamente soprattutto se ci sarà richiesta effettuare anche delle sessioni proprio coinvolgendo magari le stesse utilities nel futuro per approfondire determinate tematiche quindi questo è l'ultimo dei webinar di questo ciclo ma ci saranno altre iniziative che ancora da definire ma che potranno essere portate avanti quindi a questo punto io concluderei diciamo con un'ultima slide per ripercorrere quello che è stato un po' i temi trattati e i messaggi key message del webinar innanzitutto il webinar si inserisce all'interno del ciclo di webinar inerenti all'avviso dati un avviso che permette agli enti di finanziare quelli che sono i progetti di innovazione territoriale che sono incentrati sull'elaborazione di dati attraverso vabbè quelle che sono le tre piattaforme di cui vi ho già parlato 3D data smart region o dati toscana tra queste abbiamo visto smart region che rappresenta un ambiente completamente cloud che permette una gestione se vogliamo moderna allo stato dell'arte e avanzata dei dati dei big data anche ed è una piattaforma che è messa a disposizione degli enti che intendono non solo evolvere ma anche muovere i primi passi sperimentare in ottica smart city smart region permette di gestire l'intero diciamo ciclo del dato dall'acquisizione alla visualizzazione non sono necessari investimenti e permette anche di sperimentare l'utilizzo di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale non ci sono vincoli per quello che riguarda gli ambiti rispetto a cui le progettualità possono essere sviluppate sono a completa discrezione dell'ente possono andare dal tema dell'ambiente della mobilità dei servizi ma anche dell'educazione del sociale al turismo questo è lasciato completamente nella fantasia se vogliamo del del soggetto aderente detto questo spero di essere stato sufficientemente chiaro vi lascio con questa slide e chiaramente ora se ci sono domande è il momento giusto sia in chat che se la regia apre i microfoni anche direttamente grazie della partecipazione e proseguiamo con le domande Luca Cipriani grazie